La sostenibilità è oggi al centro di molti casi di trasformazione aziendale, ma ci sono imprese che non solo hanno deciso di cambiare, ma che vogliono essere agenti del cambiamento di altri. Inventolab è una di queste e ha iniziato a promuovere innovazione e sostenibilità coinvolgendo molti soggetti, altre imprese, istituzioni, scuole e università. In pochi anni dalla sua fondazione, Inventolab ha compiuto passi importanti. Nel 2017 si è certificata B Corp e nel 2020 è stata nominata Best Collaborator da B Lab Europa. Ma qual è la loro storia? E soprattutto, quali sono le loro prospettive? Ne parliamo qui, alla Graduate School of Management del Politecnico di Milano, per raccontarvi, in linea con il nostro purpose, come l'innovazione possa contribuire a costruire un futuro migliore. Io sono Tommaso Gasisti e con me c'è Giulia De Tomati, cofondatrice e CEO di Inventolab. Giulia, benvenuta a Innovator's Talks, dove si vive l'innovazione. Grazie Tommaso, grazie dell'invito e un saluto a tutti. Giulia, per descrivervi, voi dite, Inventolab supporta le organizzazioni a fare la differenza attraverso attività di trasformazione positiva, verso modelli di business rigenerativi, che creino valore economico e ambientale per le persone, il territorio e la comunità. È una descrizione importante, molto ambiziosa. Cosa significa concretamente? Come è nato in voi questo obiettivo e attraverso quale attività lo perseguite? Allora, sì, questo è sicuramente un obiettivo ambizioso, perché appunto abbiamo una visione che è abbastanza ambiziosa, però passo dopo passo, anno dopo anno, abbiamo capito che appunto questi obiettivi che sono un po' al nostro faro sono realizzabili. In particolare noi facciamo principalmente due cose per realizzare appunto questo obiettivo di cambiamento. La prima cosa è quella proprio di aiutare le imprese che ci sono adesso ad avere un impatto più positivo e diminuire i loro impatti negativi. Quindi agire su un cambiamento della realtà a partire appunto dalle aziende che possono giocare un ruolo di attori positivi del cambiamento, non solo quindi produttori di valore economico. E dall'altro lato ci occupiamo proprio di education e quindi di lavorare sulle nuove generazioni affinché appunto gli imprenditori del futuro abbiano un mindset diverso da quello che hanno gli imprenditori attuali che non sono ancora magari convertiti o illuminati a un modello diverso di sviluppo. E quindi agiamo secondo due direttrici che negli anni appunto hanno visto man mano aumentare sia le aziende che abbiamo coinvolto sia dall'altro lato i giovani ragazzi che siamo riusciti a coinvolgere all'interno dei percorsi, quindi scuole superiori, università e siamo arrivati appunto a più di 23 mila ragazzi coinvolti in tutta Italia. Questi obiettivi appunto, anche se la visione era ambiziosa e questi obiettivi erano inimmaginabili, prima piano piano siamo riusciti a farli, grazie appunto al lavoro di team, siamo riusciti a farli diventare realtà. Ti ringrazio molto di questi esempi che ci hai fatto e devo dire che tra i tanti progetti che avete realizzato e che si possono leggere anche attraverso il vostro sito, il progetto B Corp School mi ha particolarmente colpito, come anche tu ora lo menzionavi. L'idea di collegare imprese benefit e scuole e università mi sembra dentro la vostra ambizione ancora più ambiziosa. Come funziona nel dettaglio questa progettualità? Come ne misurate l'impatto e il successo? C'è qualche storia particolare tra quelle che avete incontrato che ci vorresti raccontare? Sì, allora c'è tanto da dire anche su questa tematica, nel senso che anche B Corp School quando l'abbiamo lanciato era proprio un'idea e un sogno, nel senso che noi ci occupavamo di imprenditorialità sostenibile e siamo diventati appunto, come avevi detto anche tu, nel 2017 B Corp. Ci siamo quindi accorte che quello che mancava nel terro del movimento B Corp era proprio l'unione tra il mondo delle imprese e quello della scuola. Così durante un summit europeo delle B Corp in Portogallo a Cascais, uno scenario bellissimo, abbiamo proposto, eravamo io e Elena che è anche mia sorella e lavora con me all'interno di InventoLab, abbiamo proposto questo, durante un workshop, quest'idea di fondare effettivamente B Corp School, cioè portare i valori Benefit e B Corp nelle scuole, soprattutto nelle scuole superiori, per effettivamente aiutare i ragazzi a pensare che si può fare impresa, si possono mettere in gioco i propri talenti, si possono cambiare le cose, mettere a terra delle idee e per farlo lo si può fare seguendo appunto dei valori così belli come quelli del movimento B Corp e Benefit. E quest'idea ha avuto seguito perché diverse B Corp che erano, Lulia Samicci è andato retta e quando siamo tornati in Italia abbiamo detto vabbè adesso l'abbiamo detto, dobbiamo realizzarlo. E così dal 2017 abbiamo avviato questo programma che man mano ha coinvolto sempre più scuole, ha una partnership con il Ministero dell'Istruzione ed è stato appunto attivato a livello sia nazionale sia internazionale. Ed è anche un po' il programma che poi ci ha coinvolto all'interno del programma di Ashoka, la fellowship comunque a livello internazionale e globale. Con B Corp School funziona in maniera molto semplice la cosa, nel senso che noi abbiamo lavorato a livello sistemico proprio con la community delle B Corp e le abbiamo spronate a proporre alle scuole delle sfide sui temi ambientali e sociali che stavano appunto a cuore queste imprese. Durante questo progetto abbiamo coinvolto aziende di diversi settori, quindi dal settore cosmetico, assicurazione, farmaceutico, energetico eccetera, coinvolgendo appunto soggetti B Corp come Davines Italia, Chiesi Group, Nativa, Wikiwi, Organizzare Italia, Bottega Filosofica, Asso Benefit, Corsicef, Lanciani Motta, Eventi Sostenibili in partnership con B Lab, Europe, Italia, la rete delle B Corp italiane e il patrocinio di ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Tutto questo appunto anche patrocinato dal Ministero dell'Istruzione. Quindi dal lancio di questa sfida i ragazzi e le ragazze nelle scuole hanno proprio creato dei veri e propri progetti di start up per risolvere questi problemi. Quindi il tema ad esempio dell'economia circolare è stato sviluppato dai ragazzi delle scuole superiori per appunto fare in modo che queste aziende avessero meno impatti dal punto di vista della creazione dei rifiuti o il tema dell'inquinamento atmosferico o ancora il tema del cambiamento climatico. Quindi tante sfide ambientali a cui le scuole hanno risposto creando appunto dei veri e propri progetti di start up concreti. Quindi non solo idee ma proprio progetti che alcuni dei quali sono diventati vere e proprie aziende. Questo credo possa essere un po' il valore aggiunto del progetto che non è solo una campagna di sensibilizzazione ma in effetti è una campagna proprio di azione, di attivismo in qualche modo perché le scuole insieme alle aziende, insieme a tutti gli altri stakeholder del territorio, quindi i comuni, le associazioni eccetera, creano dei progetti che effettivamente poi apportino un miglioramento ambientale e sociale. Ci sono tantissime storie, tantissime casistiche perché appunto abbiamo seguito un numero molto considerevole di start up che sono nati, nate in questi anni, quindi dai temi dello spreco alimentare appunto start up che hanno lavorato ad esempio sulla creazione di bevande frullate dai supermercati con la frutta e la verdura in via di scadenza, cucchiaini edibili per risolvere il problema della monoplastica con appunto il settore del bar e ristorazione, carte di credito fatte con legno delle foreste del Trentino che erano state la foresta di Baia buttate giù appunto per eventi estremi, cambiamento climatico. Quindi c'è una casistica molto ampia, tantissimi settori tutti diversi e non posso dire uno è meglio dell'altro perché appunto sono tutti molto belli e i ragazzi ci hanno messo l'anima nel realizzare questi progetti anche tra l'altro in un periodo così complesso come quello del lockdown. Certo, effettivamente sono tanti esempi e tutti molto interessanti. Ora Giulia vorrei spostarmi un attimo dalle vostre progettualità nel mondo education a quelle nel mondo delle imprese. Guardando alla realtà delle piccole e medie imprese del nostro paese che costituiscono un po' il fondamento, la caratteristica principale del sistema imprenditoriale italiano, quali ti sembrano le urgenze più significative? Cioè se tu dovessi suggerire i primi passi concreti a una PMI che decidesse di intraprendere una propria trasformazione in chiave di sostenibilità, che indicazioni operative ti sentiresti di dare? Allora sì, anche questo mondo oltre appunto all'education sulla sostenibilità sta crescendo tantissimo anche il tema proprio delle imprese che vogliono comunque rivedere in chiave trasformativa tutto il proprio modello di business. Noi operativamente appunto come InventoLab diamo dei suggerimenti anche molto concreti. Siamo prima di tutto uno degli soggetti accreditati proprio da B-Lab, quindi l'ente europeo che certifica le società sul tema B-Corp, come appunto uno dei quattro soggetti in tutta Italia deputato per accompagnare le imprese in questi percorsi. Quindi sicuramente una cosa da considerare proprio come suggerimento operativo è quello di affacciarsi e approfondire di più il tema del mondo benefit e B-Corp, perché si tratta sul mondo benefit proprio di portare una vera e propria trasformazione anche culturale nella propria impresa e tramite B-Corp avere anche degli strumenti di misurazione dell'impatto. Quindi sicuramente uno step operativo è quello di approfondire queste tematiche che oramai sono mainstream rispetto appunto al tema benefit e quindi dell'inserimento dello statuto di finalità di beneficio comune oltre a quelle del profitto e quindi la loro formalizzazione e dall'altro lato il tema di misurazione dell'impatto, perché se non si misura comunque qual è l'impatto dell'impresa è difficile poi identificare delle strategie di cambiamento. Un altro consiglio operativo su di appunto temi che si possono affrontare subito per partire è ragionare anche all'interno del proprio team d'impresa sul perché si intraprendono percorsi di questo tipo e quindi perché ha senso cambiare e non continuare a fare le cose come si sono sempre fatte e quindi ragionare anche sia l'imprenditore, l'imprenditrice o il management della società insieme anche a tutti i dipendenti sul perché, perché sia importante adesso attivare questo tipo di cambiamento e perché quindi qual è la motivazione guida. Questo è proprio un consiglio di ispirazione ma anche molto operativo per capire quale è la reale motivazione dell'azienda intraprendere un certo tipo di percorso e infine sicuramente la formazione perché comunque se non si conoscono dei modelli nuovi e non si esce un po' dalla propria comfort zone è poi difficile metterli in atto, quindi sicuramente anche fronte nostro stiamo collaborando con diverse imprese proprio per formare il management sui temi di sostenibilità ambientale e rigenerazione, quindi cosa vuol dire applicare l'economia circolare nella propria impresa, ai temi della biofilia, del cambiamento climatico e così via e quindi questi sono un po' i miei consigli e spero di aver risposto. Lo hai assolutamente, mi sembrano tutte indicazioni concrete e molto operative. Abbiamo ascoltato un esempio incredibile di convinzione e di impegno per rendere la sostenibilità sempre meno una parola e sempre di più un modo di vivere l'impresa. Speriamo davvero che grazie ad esempi come quelli di Inventolab la sensibilità e l'azione concreta verso la sostenibilità diventino prassi nei processi di trasformazione aziendale. Grazie a Giulia De Tomati, co-founder e CEO di Inventolab. Grazie a te Tommaso, a presto. Continua a seguirci e a vivere l'innovazione che cambia in meglio il futuro insieme a noi. Visita il nostro sito som.polimi.it slash innovatorstalks oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Tommaso Agassisti dalla Graduate School of Management del Politecnico di Milano. Innovator Talks. Dove si vive l'innovazione.